Allora eccoci, ci troviamo in via Monte Zovetto, cuore di Albaro, zona silenziosissima, tranquillissima. Un bel sei vani completamente ristrutturato, con infissi doppi vetri, perché per terra è una casa molto molto in ordine. Allora cominciamo il nostro giro. Questa è la zona giorno, che è il cuore della casa. Da qui si sviluppa poi tutto quanto. Andiamo verso la zona di ingresso, così vediamo la casa nel suo completo. Ecco, davanti a noi abbiamo il portone blindato e da qui si accede all'immobile. Quindi, alla nostra destra abbiamo una dispensa, dietro questa porta specchi. Qui abbiamo il bagno, come si vede è molto molto in ordine, i sanitari sono sospesi. Bagno con vasca doccia, quindi con doppio utilizzo. Poi abbiamo, alla nostra sinistra, la camera, la prima delle due camere. Una, la camera singola, grande. Torniamo nella zona giorno, facciamo un'altra panoramica. che ci porta nella cucina. La cucina che ha questo passaggio ha questi vetri che danno luce alla cucina e alla zona giorno. È una cucina ampia, dove si può tranquillamente mangiare, quindi è una cucina abitabile. Poi andiamo a vedere la seconda camera da letto, che è una, una ulteriore camera matrimoniale. con letto matrimoniale, un grosso armadio, che praticamente è una cabina armadio. Ripercorrendo abbiamo questa camera matrimoniale, abbiamo la cucina, abbiamo la zona giorno, il palazzo ha le parti comuni molto in ordine, qui abbiamo la camera singola. Dicevamo le parti comuni sono molto in ordine, c'è il posto auto condominiale e c'è la cantina al piano, quindi è una cantina molto, molto comoda, perché è qua proprio vicino all'ingresso dell'appartamento. Ecco, quindi appunto abbiamo il bagno, qui avevamo la dispensa, comunque ampia, quindi però che si aggiunge alla cantina, e qui abbiamo la nostra zona giorno, dove terminiamo con il nostro tour dell'appartamento. e qui abbiamo la nostra zona giorno,